musica, notizia, sport ogni giorno per voi sul web lecochannel.it, bluelight, blu radio questa è una vittoria importantissima che vi porta ai playoff l'obiettivo raggiunto anche con qualità e con una bella partita sì, è una partita difficile, l'Isola giocava anche qua a Salvesa per cercare di salvarsi, comunque i ragazzi si portano bene, abbiamo fatto una bella gara adesso è lavorare bene questa settimana arrivare in playoff forte e portare l'eco al più alto possibile i playoff cambia tutto perché si azzerano un po' i valori visti anche durante la stagione quanto devono avere paura le altre squadre di trovare l'eco? no, non penso paura, ma rispetto perché l'eco viene forte ma comunque noi rispettiamo tutti ma sicuramente lavoriamo bene e siamo una squadra che conta in playoff a che punto siete comunque in questo periodo in cui lei è arrivato sulla panchina dell'eco è l'eco di Marques questo? piano piano sì perché i ragazzi lavorano tantissimo durante la settimana sono tutti obbedienti, sono gente che lavorano tantissimo quindi bisogna un po' di tempo comunque però a squadre sta in un buon momento music news sport every day for you on the web lecochannel.it the blue light, blue radio iscriviti al canale